Buonasera, sono Maurizio Maccagnani, sono il Presidente della Spaziale S.P.A. Siamo qua allo stand per festeggiare i nostri 50 anni di attività. Per noi è un traguardo importantissimo, arrivato dietro tanta passione, tanta tradizione della macchina per caffè espresso e siamo qui con il nostro nuovo gioiello che è l'S50. È una macchina che va un po' fuori dagli schemi del nostro modo di lavorare, che siamo sempre stati un'azienda molto tradizionale. Qui abbiamo cercato di lavorare sulle forme e portare qualcosa di innovativo. La macchina, oltre al livello estetico, ha anche delle soluzioni tecniche molto innovative. Siamo qua assieme anche al nostro gruppo Kelly Nail, che ci ha permesso di farci conoscere come espresso italiano certificato nel mondo, una cosa che tutti all'estero apprezzano perché vedono poi nell'Italia i maestri e le persone che possono trasmettere qualcosa di diverso sull'espresso italiano. Per noi l'Enel è sempre stato un simbolo di qualità e cercare di diversificarsi da tutti quelli che non fanno parte di questo gruppo importante.